Si è tenuto mercoledì pomeriggio a Montepulciano un seminario per parlare del nuovo sistema turistico toscano, obiettivi, strategie e governance. Presente all'incontro anche l'assessore al turismo regione toscana Stefano Ciuofo che spiega come si sta muovendo la regione in fatto di strategie turistiche. Ci siamo costruiti lo strumento con il quale poter intervenire ma è un'azione in parallelo perché evidentemente la legge troverà la sua sintesi rapidamente. Deve fare un percorso e serve a me e serve ai soggetti istituzionali una fase nella quale ci diciamo le cose prima di portarle a sintesi. Ma abbiamo già delineato la conclusione dell'esperienza di Apet della vecchia agenzia ormai vecchia che concluderà il proprio operato nel mese di gennaio del 2016 e partiremo con una nuova agenzia regionale esclusivamente vocata al turismo. Sarà denominata Toscana Promozione Turistica e si occuperà esclusivamente di questo portando dentro una buona dotazione personale che già era in Apet con risorse proprio dedicate. Cerchiamo di costruire almeno in Toscana quel modello di governance che forse occorrerebbe con maggiore determinazione a livello nazionale. Su questa linea il ministro Franceschini sta operando con qualche fatica, sta rifondando letteralmente Enit ma nell'attesa noi ci mettiamo avanti.